Auguri a tutte le donne! Ecco una donna per chi fare veramente il tifo. Non la merissiù di quel remake patetico. Non era questa la Mulan che ci aveva presentato il cartone originale. Il cartone originale ci presentava una Mulan che prima partiva che era impacciata, non so se ve ricordate. Soprattutto all'inizio con l'incontro disastroso con quella antipatica odiosa con una voce da prendere alla mazzate della mezzana, no? Non so. E ancora di più nella sequenza di Farò di te un uomo, no? La sequenza dell'allenamento. Mulan parte proprio così completamente impreparata agli orrori della guerra che dovrà affrontare. Tenete conto che fino a quel momento stava fingendo di essere un uomo. Dopotutto quando Shang le dice senti, va a casa che non si è proprio pronto per la guerra. Ma poi è la forza di volontà, il coraggio, la determinazione nel raggiungere quella cima, a stupire tutti i suoi commelitoni. Yao che la guarda stupito, Shen Po che la guarda con ammirazione, Ling che le fa il tifo. Parliamo di gli stessi che poco prima avevano cercato di ostacolarla in tutti i modi. E poi il momento in cui sotto lo sguardo meravigliato di Shang e sotto uno scroscio di esultanze dai suoi commelitoni, la nostra eroina riesce nel suo intento. E per tutto il resto di quella canzone riesce non soltanto a dimostrare di non essere al di sotto dei suoi commelitoni, non solo riesce a farseli amici, ma finalmente infonde in loro il coraggio di proseguire con la loro missione. Se ripenso alle ultime parole famose di quella Befana in agrodolce. Sei una disgrazia! Potrai sembrare una sposa, ma non porterai mai onora alla tua famiglia. E poi sconfisse un uno grande il doppio di lei. E poi portò onore alla sua famiglia e poi salvò un'intera nazione. Tiè! Ma non usciamo dal seminato. Io sono Diego Dabber 21. Salve a tutti e auguri a tutte le donne. Io sono Diego Dabber 21. In questo nuovo video interpreterò l'imperatore della Cina dal film Walt Disney del 1998 Mulan, un capolavoro sul girl power che vi consiglio veramente per questa giornata dedicata alle donne. Di questo video, come sempre, persegue solamente la voce, giusto per essere chiari. Se vi piace, iscrivetevi, non perdetevi nei miei ultimi attività di doppiaggio. da Diego Dabber 21, un cirbiciao a tutti i fan del doppiaggio. Buona visione a tutti. Spero che il video vi piaccia. Si va a incominciare. Noi ci rivediamo alla fine del video. liberato alla mia vita. Lei dov'è la combinata grossa? Che disastro! Fatti da parte! Quella creatura non è degna di essere protetta. È un eroito. È una donna. Una cosa che non verrà mai niente. Senti tu, Ponghi. E adesso... basta. Maestà, posso spiegare? Ho sentito tante cose su di te, Famoulan. Hai rubato l'armatura di tuo padre. Sei scappata di casa. Ti sei travestita da soldato. Hai ingannato il tuo comandante. disonorato l'armata cinese. Distrutto il mio palazzo. E... e hai salvato tutti noi. La mia bambina è cresciuta. Si è fatta grande. E salva la Cina. Hai un fazzoletto? Cifu! Sì, eccellenza. Provvedi a che questa donna sia fatta membro del mio consiglio. Eh, cosa? Eh, 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 ma... nel consiglio non ci sono posti vacanti, maestà. Molto bene. Vuoi avere la sua carica? No, me, me, me. Oh! Con tutto il dovuto rispetto, eccellenza, credo di essere stata troppo a lungo via da casa. Allora, prendi questa. Così la tua famiglia saprà quello che tu hai fatto per me. E... questa. Così il mondo saprà quello che hai fatto per la Cina. Mi dai il permesso di farlo. Tu... Combatti bene. Oh... Grazie. Can, andiamo a casa. Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti. Non si incontra una ragazza come quella in tutte le dinastie. Dai, Shang, non essere timido. Dille quello che provi per lei. Ben ti stascio vinista in grato che non sei altro. Comunque... Solo io trovo rivoltante sto stereotipo che chi è masculino è uno scorregione. Oh, wow, hai emesso aria calda dal buco del sedere. Sì che sei un uomo. Io trovo veramente questo stereotipo sulla mascolinità, oltre ad essere degredante per noi maschi, anche è abbastanza... Fa proprio schifo. Provocare qualcuno in fumi verdognoli e puzzolenti non è bello. Non è essere mascolini, è avere lo stomaco marcio. Però, seriamente, non è divertente. Ma non usciamo dal seminato. Io sono Diego Dabber XXI e questo era il mio idoppiaggio dell'imperatore della Cina dal capolavoro Walt Disney del 1998 Mulan. Nella scena che secondo me racchiude l'essenza di quel film. Ovvero, tu puoi fare grandi cose, a prescindere di che genere sei. Puoi essere donna, puoi essere uomo, puoi essere un marziano, puoi essere... puoi essere il papa. Tu puoi fare grandi cose, con la forza di volontà, con il coraggio, la determinazione, l'astuzia e anche un poco di fortuna. Spero che il video vi sia piaciuto. Un check mail ciao a tutti i fan del doppiaggio datativo Dabber XXI, Dabber XXI e ci vediamo presto con tanti nuovi video. E tanti auguri a tutte le donne. Che scena ragazzi, tanto è vero.